Allora, tieni un quadro e film, ma voi non metti la mano davanti alla corda, vai! Ma è quasi stacca? Si, tranquilli, fai il film, fai davanti in mano! Allora, siamo quasi pronti? I mezzi di te, altri mezzi che si accendono? Noi mi chiedi così, dalla moda, che in quattro non si chiama? Lina, Lina! Eh, com'è? Lina! Lina, ebbene, noi, siamo pronti, partiamo, siamo partendo, attenzione, c'è una relazione, eh? Eccolo qua, i primi film di una sfilata, con i vestiti di Nova Outlet GL, sono Salvatore Embreoni e Roberta Castellucci, un bel applauso per questi due film. Scusate, questi, non si vanno a posizionare davanti a un cuore piano, tu mi raccomando tutti i tuoi vicini. Bostro te, fate la foto per mamma, papà, non ci vanno, godi, potete fare un'italiana tutti? No, no, fermatevi, tutti da qua. No, tu del cuore il fournitore, tutti da. Si, va bene pure così. Stiamo improvvisando, tranquillo, va bene. Quando arriva la la facciamo scendere da un uomo. perfetto signor se vi sedete però vedo in più qualcosa grazie allora facciamo partire gli altri due tipi ecco i campini ci sono anche gli amici cinesi ciao compadre ecco i campini che arrivano sono gli altri due Andrea Meloni e Alessia Pillo ecco ci stessero che c'è ogni cosa eccole qui queste cose in Cina non le fanno facciamo intervistante e incidenti sono anche ma ci sono tizi con Marò fanno andare i binghi anche i binghi ci sono andati due sono stessi sono andati nel negozio ci stiamo divertendo il tono con questi binghi che vanno è un po' difficile tutti dove devono andare quindi è importante è che stima sono veramente bello questi sono Andrea Andreone e Alessia un po' difficile noi siamo andati là fino al furgone tutti tutti con la sua 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 ci stiamo allora adesso sfidano Jacopo Anzalone e l'amore che dottata è Mario Ambrosi ecco i binghi questo è il terzo a Adesso c'è la quarta, l'ultima. Allora, se non sbaglio sono Salvatore Andreoni, giusto? La quarta uscita è questa, scusate un attimo. Allora, adesso scendono Mario Ambrosi con la piccola Mara, che si userebbe anche loro con un bello applauso. Ovviamente noi facciamo ripartire le nostre cose da base. Ecco le quali che ispirano tutti, con questo con gli occhiali di Eri, che fisico che c'è, oh! S'è depilato pure questo qua, c'è la camicia tutta aperta, il piccolino, il puletto, il piacere fino. Senti, che no, non è un'esercizio. Sono salvezza, non fanno male. No, vimbalo, non vimbalo. Allora, vimbi tutti da, grazie. Non mi è capitato di fare una stirata così, però è riuscita bene, non è piaciuta. Allora. Ah, adesso sono i costumi da bagno. Allora, ho un altro leggero di Ciderizia. Senti, stima, 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 stima. Francesca, allora, voglio dire, tutti sono costumi. Stai, la faccio femminile, e poi, tutti, la faccio. Allora, i bambini stima, la mia costruzione. Ok, brava Francesca, abbiamo fatto cantare anche la setta fece per stasera. Vi fanno sconto quanto ti ti chiescono dopo, perché sono andato l'altro giorno, ma i miei sono troppo piccoli per andare da loro. Dopo, ma io già mi sono fatti le mie amicizie. Roberto, non vado più tardi bene. Così tanto, come? Allora, tra poco sfideranno i costumi. Adesso mi spogliano, mi ripensano. Io che faccio? Due minuti? Non mi prendiamo come al solito. Non per cambiarsi fuori. Perfetto, allora, io vi regalo una canzone adesso. Me la faccio sentire, dopo riprendiamo.